Ma non staremo a fare una cazzata? Dai, Diego, la contaminazione. Ma hai sentito che sono sti rollini? Sai che sono da paura, Vesino? Oh, oggi ti voglio in forma, eh? Stamme dietro che ti faccio guarnia tre, quattro, cinquecento euro al nero, eh? Capito? Così magari sta ragazzetta la porti in un ristorantino come si deve, eh? Che c'è, con giù ti vede? La facciamo la settimana prossima. Ma tu sei scema, la settimana prossima ne auguro un delfinario a Vancouver. Ah, bella! Come stai? Quando ce li laviamo, sti capelli, eh? Ma che vuoi? Bella! Ma che magna? Mango? Sì. E quindi tu saresti la nuova protagonista? Sì. Sei bassa, eh? Bassissima. Per fortuna che ci sei tu, Clauco. Sei un gigante, sei. Sì, ora ti dico una cosa. Non la dimenticare, eh? È una cosa importante. Non mi devi mai toccare. Mai. Mi vuoi fottere il posto? Ma che sei fatto al posto tuo? A me mi fa schifo. Sono contento. Lucio, ma che scherzi? Con quello che guadagni tu in un anno io ci pago a malapena l'affitta della Villa Giovanni, scordi. Ti ammiro molto. Sto cercando il protagonista dello sequel, Ammalati e Morti. Ammalati e Morti, il capolavoro degli anni Ottante? Sì, però sto puntando molto in alto in una storia ambientata sul mondo tra cento anni. Le dico, sta bene. Non me lo dà. Stop. Scusa, René. Stani. Ma sai che l'hai fatta proprio male, 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 male sta scena? Come male, male? Malissimo. Perché lì c'è una serietà, una precisione, un senso porca puttana etico. Bel lavoro. Sì, no, no, sai che faccio? Mi sdraio per terra e magari faccio una flessione. Oh, è importante però che non dici cazzate. Ma scusa, l'ho buttata lì, ca... Itala! Che è? Ci siamo capiti, eh? Io te parto, Itala, eh? Per quello che ci siamo detti prima. Perché che ci siamo detti prima? Il protagonista del sequel di Ammalati e Morti, il monopattino sul mondo. Ah, certo, guarda, sei in lizia con uno zingaro che ho visto a Tor di Quinto.